Ora degustiamo una fragranza san molto particolare, Mafalda, dal nome della cittadina Mafalda, dove viene coltivata questa cultivar antichissima che è stata recuperata pochi anni or sono, divenendo nel 2017 la diciannovesima cultivar da olio molisana e lo andiamo, lo osserviamo prima, un bellissimo colore giallo oro con qualche riflesso verde, continuo a scaldarlo in modo che possa raggiungere una temperatura di 27-28 gradi e poter poi percepire appieno i suoi profumi. Intenso, piacevolissimo, pulito, una qualità eccellente. La foglia di pomodoro, ma anche il pomodoro verde, quindi frutta, il frutto e la foglia del pomodoro. Erbe aromatiche che sfociano nel balsamico. La foglia di basilico si riconosce in maniera netta. Un naso verde in mezzo al quale si insinua una nota dolce di mela verde. Massaggiamo. La qualità olfattiva si ripete in bocca, assolutamente straordinario questo olio, un olio extravergine di oliva in cui l'amaro e il piccante sembrano rincorrersi. La piccantezza che resta sul finale ricorda il peperoncino rosso tondo. Un amaro gradevolissimo di mandorla, mandorla leggermente tostata. Un olio che può essere utilizzato per preparare delle salse, ad esempio un pesto, ecco perché con queste sue sensazioni aromatiche di basilico si sposa appunto con il pesto genovese in luogo della classica tradizionale taggiasca. Oppure, ecco, a crudo su una caprese, mozzarella di bufala campana e pomodoro con la foglia di basilico. Oppure il classico giro su una pizza margherita.